Oggi noi abbiamo un dato, una forbice inferiore rispetto a quello che è accaduto tra ieri e l'altro ieri, però su queste valutazioni io sono molto prudente, non ho mai voluto fare considerazioni sulla curva, vediamo che la curva aumenta e oggi dire quale sarà il momento del picco è estremamente azzardato. Noi stiamo seguendo con questi numeri le cose di giorno in giorno, di ora in ora e stiamo cercando di contenere, di continuare nella manovra di contenimento che è la linea che abbiamo adottato fin dal primo momento. Speriamo che questa manovra di contenimento con misure restrittive rigorose ci consenta di contenere, di mantenere questi dati che noi oggi stiamo registrando, perché in termini di contagio del virus, in termini di letalità, in termini complessivi dei dati che si presentano è sotto gli occhi di tutti che noi stiamo ancora contenendo questo fenomeno, fortunatamente per noi, purtroppo per le altre regioni in maniera molto diversa rispetto a quello che sta capitando in altre regioni italiane. A che punto siamo con la situazione negli ospedali? Il sistema regge e fino a quando potrà reggere? Noi abbiamo costruito un piano che sostanzialmente ha stravolto l'impostazione che era stata costruita all'inizio, perché vedete che all'inizio si prevedeva la costruzione di un sistema che prevedesse il 50% dell'aumento delle terapie intensive, e questo è stato stravolto in tutte le regioni, quindi noi partivamo da 29 terapie intensive, oggi siamo a 78 e prevediamo di raggiungere il centinaio delle terapie intensive nel corso della prossima settimana. Da copertura è a 57 e ricordo che ci sono alcuni pazienti che sono arrivati dalla Lombardia, perché il CROSS, che è il sistema che sta governando la copertura nazionale, ci ha chiesto di poter ospitare dei pazienti che altrimenti non avrebbero trovato dei letti di terapia intensiva. Quindi secondo me il sistema sta reggendo, i nostri reparti ospirano 222 persone, abbiamo una capacità di proiezione sulla terapia intensiva significativa nell'ordine di una ventina di persone in questo momento, abbiamo un'ulteriore capacità, è chiaro che poi tutto dipenderà dalla dotazione degli strumenti che la gestione commissaria nazionale ci metterà a disposizione. Noi stiamo attrezzando i nostri ospedali a poter ospitare ancora diverse decine di unità di terapia intensiva, ma questo dipenderà dalla dotazione di attrezzature sulle quali noi siamo arrivati al centinaio e lo ricordo siamo arrivati al centinaio partendo da 29, quindi lo sforzo è stato importante riducendo anche tutte le attività ordinarie e operative che negli ospedali si facevano lasciando soltanto le attività di emergenza, ma è evidente che se non ci arriveranno a partire dai ventilatori tutte le attrezzature necessarie non saremo in grado di allestire ulteriori posti letto che noi tutti ovviamente ci auguriamo che non debbano servire. Oggi è arrivata una richiesta del sindacato autonomo di polizia, chiedono di fare i tamponi a tutte le forze dell'ordine impegnate per una sorta di autoprotezione e ovviamente anche di non diffondere eventualmente il contagio. Sul modello in qualche modo Zaia, lei è d'accordo o no? Questa richiesta la può accogliere o no? Ma guardi, non è che io devo accogliere o posso essere d'accordo. Io mi attesto a quelli che sono i dispositivi del Ministero della Sanità che ieri sera è intervenuto in maniera precisa assolutamente dicendo facciamo i tamponi alle persone esposte e in particolare esposte a quello che è il sistema sanitario, perché quello è il principale tema che noi dobbiamo proteggere. Dobbiamo proteggere anche tutti gli operatori delle forze di pulizia, però quello che vorrei chiarire è che il tampone non è che noi risolviamo il problema quando abbiamo fatto il tampone, perché il tampone ha una fidibilità dell'80%, può dimostrare che tu non hai il virus o ce l'hai, ma il virus lo puoi contrarre anche dopo aver fatto il tampone. Tanto è vero che la procedura, il protocollo prevede che nel momento in cui tu hai una fascia di persone, di figure che devono essere particolarmente protetta, mi riferisco al personale sanitario, è chiaro che va organizzato non un tampone, va organizzato un tampone ad un periodo, ogni periodo prestabilito di alcune decine di ore nelle quali il tampone deve essere ripetuto, altrimenti un sistema di prevenzione di contenimento tu non lo metti in moto e tutto questo deve essere compatibile anche con gli strumenti e la capacità di restituzione dei test che ovviamente vivono una condizione straordinaria che noi abbiamo sicuramente implementato, ma deve essere compatibile con questo tipo di operazione. Poi è evidente che io sono d'accordo di riuscire a proteggere tutti, però la capacità di protezione di tutti deve essere scalata in ordine alle condizioni di esposizione che le persone hanno, quindi sicuramente le forze di polizia fanno un ragionamento pienamente condivisibile, questo però deve essere calato nella costruzione della sostenibilità di questo tipo di ipotesi che loro fanno, che non risponde come viene detto in più di qualche circostanza, in un tampone e basta, perché un tampone e basta non ci risolve le cose, noi dobbiamo essere in grado di fare un tampone e di ripeterlo, perché altrimenti un tampone da solo non risolve il problema e non protegge nessuno. C'è un ultimo messaggio che vuole dare ai cittadini del Friuli Venezia Giulia? Voglio dare un messaggio di speranza, il messaggio che voglio dare è che ci sono tante persone che lavorano per la salute delle persone, purtroppo ci sono anche molte persone che strumentalizzano e raccontano delle falsità, purtroppo la rete oggi ci fa guardare tante cose che fortunatamente soltanto in alcune parti non sono vere, io credo che il senso di comunità, di responsabilità ci deve far guardare con speranza ad un futuro che auguriamo avvenga il primo possibile perché ci faccia uscire da questa situazione di difficoltà. L'unico appello che mi sento di fare è cerchiamo di rimanere a casa e di rispettare le regole che ci sono imposte. Capiamo perfettamente che è un sacrificio, però è un sacrificio che fa beneficio della nostra salute e della salute di tutti coloro che ci stanno vicini e che potranno incontrare.